...della coalizione di centro-destra in cui si è discusso del candidato e del programma da proporre ai cittadini delle amministrative del 25 maggio. Al centro dell'anno è approfondito e dibattito l'unanime volontà di tenere unita l'area moderata. Sulla figura del consigliere comunale Franco Mandella c'è stata la totale convergenza di tutto il centro-destra sia per via dell'esperienza politico-amministrativa maturata negli ultimi anni sia per la profonda conoscenza dei problemi della città che Mandella ha dimostrato gli avere. Nel corso della riunione la coalizione ha iniziato a stilare un programma politico composto da pochi ma attendibili punti per il rilancio della città di Foggia d'attassata da dieci anni di malgoverno del centro-sinistra. Nella giornata di mercoledì il candidato Mandella sarà presentato alla cittadinanza durante una conferenza stampa. Da questo momento all'Andella e ai partiti della coalizione il compito di allargare la partecipazione a quante più forze si ricanoscono nello schieramento dei moderati di Foggia.